Tu da che parte stai? Fino a poco tempo fa stavo in centro, ora sto più vicino alla stazione. I'm no Superman Ciao tuberi, purtroppo sono Filippo Altropuando e bentornati a Super Ergo Sum, rubrica interamente dedicata al mondo dei supereroi. Che dire, i cinecomics ormai arrivano a pioggia e per quanto ammicchino allo zoccolo duro dei fans tentano di agganciare anche chi i fumetti ancora non li ha letti magari svolgendo una mirata opera di seduzione attraverso il canale cinematografico. Dietro l'angolo, già uscito negli Stati Uniti, c'è Capitan America Civil War. Sì, Capitan, non dirò mai Capitain, ok? Già rosico perché dopo essere cresciuto in compagnia dell'uomo ragno gli Stati Uniti hanno dovuto finire di colonizzare il mio culo peloso facendolo diventare anche da noi Spider-Man. Capisco Daredevil, che era il nome originale, ma Capitan America per me resta Capitan America in italiano e per una semplice ragione, nel doppiaggio fa cacofonia. Ma torniamo a Civil War. Qualcuno mi ha chiesto se ne avrei parlato proprio in vista dell'uscita del film. Ebbene, sì. Giusto per spirito di servizio, dalla mia nicchia youtubica, vi farò un bignamino della miniserie crossover evento Marvel 2006 semplicemente per fornire a chi non li avesse gli strumenti per un confronto con la lettura cinematografica che ovviamente presenterà delle differenze non da poco. Civil War, per cominciare, nei fumetti si articola come un'operazione di marketing estesa. C'è la miniserie scritta da Mark Miller e disegnata da Steve McNevin che fa la cronaca della guerra civile tra gli schieramenti guidati da Anthony Stark, Iron Man e Steve Rogers, Capitan America. In parallelo c'è un crossover che riguarda un po' tutte le testate e in più singole miniserie, il tutto scandito da una campagna mediatica la cui frase di lancio era Al di là delle risposte scurrili che mi vengono in mente, questa frase fu sfruttata sugli albi e in rete in modo che i lettori stessi dibattessero sulle ragioni di questa guerra civile dei supereroi. Ricordo che sui forum e sui social ancora giovani leggevo discussioni che tiravano acqua al mulino o di Stark o di Cap. L'imparzialità di casa Marvel era solo di facciata ma su questo torneremo. Diciamo intanto che Civil War si proponeva in apparenza di cambiare lo status quo del Marvel Universe in modo definitivo e tutto fu orchestrato con un'atmosfera solenne da tragedia greca. Tutto nasce da una domanda. I supereroi sono una risorsa o una minaccia a loro volta? Le loro gesta, anche se animati da buone intenzioni, sono pericolose per la gente comune? Insomma, ben prima che Zack Snyder girasse Man of Steel dove Superman e Zod si mazziano nel bel mezzo di una città affollatissima qualcuno si era posto il problema dei danni collaterali. L'intenzione era quella dopo decenni di calzamaglia di fare finalmente indossare i pantaloni lunghi ai supereroi per poi lasciarli a brache calate. Fino a quel momento gli eroi più forti Hulk, Thor, Iron Man avevano sempre fatto bordello nelle metropoli americane a volte facendo crollare edifici fatiscenti e miracolosamente abbandonati giusto per sollevare un po' di polvere. Il presupposto di Civil War è che invece possano combinare delle vere e proprie cazzate cosa che fanno i New Warriors gruppo di giovani eroi minori che tra l'altro si portano dietro un cameraman che filma le loro imprese per un reality affrontando tra gli altri Nitro vecchio supercriminale nato negli anni 70 sulle pagine di Capitan Marvel in pieno centro abitato vicino a una scuola pessima idea visto che Nitro ha il discutibile talento di esplodere come una bomba umana con una potenza devastante e poi ricomporsi dai suoi mille pezzi. Nell'esplosione di quella che sarà chiamata la strage di Stanford muoiono 600 persone tra cui quasi tutti i New Warriors e parecchi civili tra cui moltissimi bambini che frequentavano la scuola mostrare la morte di bambini è sempre stato un tabù per ogni tipo di fiction in ogni forma e di solito lo si inserisce per suscitare un twist una reazione di pancia i coloratissimi supereroi tutto a un tratto sono pericolosi come i criminali che combattono e i funerali di stato per le vittime di Stanford c'è chi accusa lo stesso Anthony Stark con le sue tecnologie e il suo ruolo negli Avengers di avere ispirato gli emuli che hanno causato la tragedia Pfff, lui è da pezzo di merda Lei sapeva che non si poteva fare il bagno ma ha lasciato che la gente facesse lo stesso il bagno lo squalo di Steven Spielberg Dogett Ma prima ancora della tragedia di Stanford qualcosa era nell'aria del disegno di legge sulla registrazione dei superumani legge che dovrebbe regolamentare i supereroi trasformandoli a tutti gli effetti in agenti governativi controllati e destrati si discuteva da un po' Il clima tra eroi in tuta e cittadini normali si era fatto teso e la questione era stata dibattuta anche tra gli illuminati sorta di intelligenza della comunità superumana creata con l'espediente narrativo della retro continuity Anthony Stark Reed Richards dei Fantastici 4 Charles Xavier Namor sovrano di Atlantide il mago Doctor Strange e il re degli inumani di Freccianera avevano costituito questa loggia segreta dopo la storica guerra tra alieni Kree e Skrull presumendo di riunire una rappresentanza scelta delle varie tipologie supereroistiche la creme della creme riunita per deliberare su grandi questioni Pantera Nera re del Wakanda rifiutò l'offerta trovando l'idea di questa conventicola segreta arrogante e pericolosa dagli illuminati con eccezione di Namor e Xavier venne la decisione di esiliare Hulk nello spazio scelta che avrebbe portato alle conseguenze catastrofiche di World War Hulk ma soprattutto fu in una delle loro riunioni che Iron Man parlò per la prima volta dell'atto di registrazione dei superumani progetto di legge appoggiato da Stark e da Richards ma avversato da Strange e Namor la spaccatura tra i membri della commissione segreta era solo il primo segnale di quella che sarebbe diventata una guerra tra supereroi la tragedia di Stanford infatti accelera i tempi e l'atto di registrazione diventa realtà il concetto di atto di registrazione come suggerisce il nome prevede che l'eroe si smascheri almeno con le autorità e si lasci arruolare previo addestramento e seguendo regole specifiche se gli Avengers erano già eroi istituzionalizzati che entravano in azione per risolvere crisi di carattere planetario qui le maglie si fanno più strette gli eroi sarebbero stati direttamente al servizio del governo militarizzati uno scenario che metterà l'uno contro l'altro due eroi emblematici Capitan America e Iron Man il tecnocrate burocrate che appoggia la militarizzazione degli eroi con poteri è, paradossalmente, il super soldato creato per essere il simbolo degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale un idealista fedele solo al sogno americano come afferma lui stesso che vede nella registrazione una limitazione delle libertà dell'individuo e un principio di deriva reazionaria chiedere da che parte stavi era solo uno slogan per soffiare sul fuoco visto che al pubblico piace sempre schierarsi a proposito cantava meglio Maria Callas o Renata Tebaldi? in realtà, dal punto di vista degli autori non solo di Miller perché parliamo di un crossover molto ampio dipinge di toni oscuri il nuovo ordine perché sia sul piano delle dinamiche narrative che su quello pratico l'atto di registrazione dei superumani è una pessima idea il supereroe, nella finzione esiste in quanto capace di intervenire laddove la legge non può o non vuole e principalmente per questo nella maggior parte dei casi la sua identità è segreta è un deus ex machina e di norma agisce ai confini se non del tutto fuori dalla legalità questo confine è spesso ambiguo nelle storie di supereroi i presupposti di Civil War danno una sterzata e provano a mostrare la questione in tutta la sua spinosità politica un eroe la cui identità è nota sia pure custodita dal governo è ricattabile in mille modi diventa automaticamente una potenziale marionetta al soldo della politica non solo ma esisterà sempre l'eventualità che le informazioni su di lui trapelino rendendo vulnerabile e manipolabile lui e chi gli sta vicino cosa che molto successivamente ma puntualmente accadrà quando dopo il regno oscuro di Norman Osborn si andrà verso il ripristino dello scenario precedente ma all'inizio è un casino Nick Fury all'epoca era ancora caucasico ed era latitante e a dirigere lo S.H.I.E.L.D. c'era l'acidissima Maria Hill che in realtà ha molto poco in comune con Kobe Smulders l'ex zia Robin di How I Met Your Mother la guerra inizia nel preciso istante in cui il comandante in carica allo S.H.I.E.L.D. chiede a Capitano America di guidare una forza di polizia che arresti i superumani remitenti all'atto di registrazione Cap si rifiuta e sono cazzi non faccia della politica con me Hill i supereroi devono essere al di sopra di queste cose o sarà Washington che iniziera a dirci chi sono i supercriminali pensavo che i supercriminali fossero tizi mascherati che si rifiutano di obbedire alla legge è una follia una totale follia che tu possa bruciare all'inferno per questo Hill che tu possa bruciare all'inferno per avermi costretto a farlo ormai ci sono due fazioni distinte da un lato quella di Anthony Stark che appoggia l'atto di registrazione dall'altra i ribelli di Capitano America due schieramenti che se le daranno di santa ragione durante la guerra ci saranno lutti e cambi di bandiera tradimenti arresti e tragedie i fatti più importanti che scandiscono la saga sono sostanzialmente due nel corso della storia Marvel a Henry Pym sono stati imputati diversi gesti infami la creazione di Ultron quando andò fuori di testa e picchiò la moglie Janet Wasp beh ci sarebbero pure le responsabilità di Civil War anche se a onor del vero quelle se le spartisce con Reed Richards e Tony Stark e sono state poi cancellate dall'evento Secret Invasion ad ogni modo durante Civil War Thor il dio del tuono era dato per morto c'era stato il Ragnarok la fine del mondo per gli dei norreni Tony Stark però aveva conservato dei capelli del biondo dio da questi capelli Pym e Richards avevano ricavato un clone o meglio una via di mezzo tra l'androide e un clone cyborg con poteri simili a quelli di Thor da usare come arma durante una delle battaglie tra fazioni il clone di Thor uccide Bill Foster Golia Nero che militava dalla parte di Capitan America questo è il primo snodo una morte che sconvolge tutti suscita ulteriore caos e inasprisce sempre più le tensioni hai capito quanto sono affidabili questi eroi che sostengono l'atto di registrazione da un lato vogliono arruolare e addestrare i superumani in modo che non facciano stronzate poi mi scateni la fotocopia ritardata del dio del tuono ma va a cagare il secondo snodo è il ruolo dell'uomo ragno nell'ambito della guerra civile aspetto della storia molto pubblicizzato al tempo della prima uscita un fatto cardine che si articola in due tempi il primo è lo smascheramento pubblico in televisione mi chiamo Peter Parker e sono l'uomo ragno da quando avevo 15 anni Peter Parker era già da un po' diventato una sorta di pupillo per Anthony Stark che gli aveva fornito un costume tecnologico chiamato Iron Spider Sweet Peter appoggia Stark di buon grado e diventa l'esempio ideale dell'eroe sottomesso alla legge con la trovata mediatica e grandissima minchiata di farlo smascherare in diretta televisiva ma mentre incalza la guerra civile Peter ha un ripensamento e questo il secondo tempo del secondo snodo della saga l'uomo ragno cambia bandiera e passa dalla parte di Cap non mi disturba lavorare con lo shield ma imprigionare eroi nella zona negativa il cyborg che uccide Bill Foster andiamo quando è troppo è troppo segue una fuga rocambolesca Stark gli scatena contro un gruppo di super criminali asserviti e Peter quasi ci resta ma viene salvato da The Punisher e consegnato ai ribelli di Capitan America la guerra insensata tra eroi la morte di Bill Foster a causa di un'arma di Stark fuori controllo una prigione per eroi disobbedienti creata da Reed Richards nella zona negativa ha ragione l'uomo ragno quando è troppo è troppo la stessa Sue Richards e suo fratello Johnny mollano a un certo punto Reed dandogli del fascista per aiutare i ribelli non parlarmi nemmeno non dire una sola parola non voglio dilungarmi oltre sul racconto è una saga che ormai ha fatto storia ed è stata messa tra parentesi non sono neppure spoiler perché il finale sfocia in ulteriori crossover Marvel famosissimi quello dell'iniziativa dell'invasione segreta degli Skrull e del regno oscuro di Norman Osborn il tutto passando attraverso la morte e resurrezione di Capitan America che alla fine di Civil War vedendo tanta violenza si trasforma in Gandhi e si arredde il mio parere è che Civil War rappresentò un'occasione sprecata i temi seri da sviscerare c'erano e c'era la possibilità di rivedere la mitologia superomistica in una chiave più elaborata che contrapponeva superumani di stato a superumani di strada ma la verità è che lo status quo marvelliano è intoccabile e poi c'è da dire che un cambiamento veramente definitivo dello scenario ci avrebbe portato a un panorama Marvel assolutamente DORK quello che da un lato ha reso popolare il Batman cinematografico di Nolan ma che adesso ha cominciato anche giustamente a stancare gli appassionati di fumetti supereroistici quindi lo strombazzato cambiamento epocale si è risolto nell'ormai canonico stravolgimento temporaneo che di solito dura più o meno un annetto e anche stavolta dopo tanta strada si è praticamente tornati al punto di partenza l'idea base di Civil War è affascinante ma il racconto ha tanti buchi praticamente trasforma sia Stark che Reed Richards in personaggi diversi da quello che erano sempre stati rendendoli frintroppo pronti a sostenere provvedimenti liberticidi un clone di Thor scatenato una prigione di massima sicurezza in un'altra dimensione inutile chiedere da che parte stai quando due eroi sconfinano in azioni che sono da sempre state dei cliché da Villain poi la tecnologia dello shield per catturare i superumani dissidenti ma porca puttana se lo shield ha questi mezzi e dà filo da torcere a eroi discretamente forti che bisogno c'è dei supereroi visto che esiste già una forza di superpolizia possibilmente ed ancora prima dei fatti di Stanford perché per anni tanti supercriminali hanno fatto botte con eroi in tuta per le strade delle città quando lo shield è così efficiente e attrezzato per contenere i superumani inoltre c'è la questione della propaganda e dello smascheramento pubblico di Peter Parker evitabilissimo e pericolosissimo infatti di lì a poco qualcuno sparerà a zia May e andremo incontro a quella stronzata di soltanto un altro giorno racconto in cui il demone Mephisto cambia il corso degli eventi cancella il matrimonio con Mary Jane e azzera gli eventi di Civil War che hanno riguardato Peter Parker insomma in Civil War è tutto interessante ma è anche artificioso e in fondo poco marbelliano a livello proprio di contenuti e i mutanti gli X-Men che restano neutrali per ragioni poco convincenti in fin dei conti anche perché la gente comune che ora ha paura dei supereroi in generale ha sempre avuto paura dei mutanti dove sarebbe la differenza per l'opinione pubblica ed Emma Frost che dice che a loro basta essere lasciati in pace nella loro riserva ma che cazzo di attivista per i diritti civili sei ma e poi come fai a rimanere neutrale davanti a una legge che ti viene a prendere a casa per dirti come devi vivere siete mutanti cazzo ricordate la sparata del deputato leghista che voleva prendere le impronte dei piedi degli extracomunitari beh l'atto di registrazione vale anche per i mutanti e non è tanto diverso semplicemente avreste incasinato troppo la continuity in marble e quindi a casa insomma si tenta in vano secondo me di rendere serio e politico un quadro fumettistico che da sempre è bariegato e spesso contraddittorio nel racconto c'è il ritmo c'è il dramma ma è tutto un po' voluto nel senso di forzato compreso il finale con Capitan America che si arrende perché hanno ragione non stiamo più combattendo per la gente Falcon guardaci stiamo solo combattendo so che a molti questo sviluppo è piaciuto ma di fatto rende inutile tutta la storia di resistenza precedente l'insensatezza della violenza è un concetto sacrosanto ma dopo esserti battuto per un'idea ti metti alla merced di chi ti sta prevaricando è una logica proto-cristiana ok ci può stare ma arriva in ritardissimo in modo repentino e di fatto sempre secondo me conclude la miniserie come un coito interrotto spendendo due parole in attesa del film Capitan America Civil War è da dare per scontato che le implicazioni non potranno essere le stesse il Marvel Cinematic Universe per quanto si sia andato espandendo conta ancora un numero limitato di personaggi parliamo di guerra civile ma quella che vedremo sarà più che altro uno scontro tra bande che sostengono istanze diverse dai trailer si possono già rilevare altre differenze come la presenza di Pantera Nera alla sua prima apparizione cinematografica ma con un ruolo molto diverso la presenza di personaggi che nella Civil War fumettistica non erano presenti Occhio di Falco e Scarlet è probabile che anche qui ci sarà una morte che inasprirà il conflitto ci sarà il debutto del nuovo Spider-Man Tom Holland sono molto curioso al riguardo di vedere come useranno il personaggio in questo contesto e la conclusione chissà faccio questo discorso solo per sottolineare come Civil War parlo adesso della saga fumetti abbia comunque lasciato un'impronta importante nella memoria dei Marvel fans tanto ad essere adattata in qualche modo per il cinema anche prima di altri cicli storici i supereroi hanno fatto a botte tra loro sin dalle origini e tutto si risolveva con una bicchierata in taverna ma il Civil War hanno versato sangue si sono traditi sono stati per davvero in guerra tra loro forse se si fosse trattato di una storia immaginaria che seguiva regole tutte sue un po' come Kingdom Come della DC Comics per intenderci forse avrebbe potuto graffiare di più e avere una maggiore compiutezza invece si incanalava nel consueto processo di continuity che rende di fatto lo stato delle cose immutabile perché Civil War potesse essere scritto alcuni personaggi hanno dovuto smettere di essere quello che erano almeno per un po' il concetto di eroe è stato messo in discussione anche questo solo per un po' a me resta l'amaro in bocca per Capitan America un personaggio nato per essere un veicolo di propaganda ma che spesso si è dimostrato più progressista e cosmopolita di altri sotto certi aspetti più messianico dello stesso Superman della distinta concorrenza peccato per quella bandiera che indossa che a me continua a dare l'orticaria bandiera che a volte ha dismesso ma che è sempre tornato a indossare del resto parliamo della Marvel e di fumetti prodotti da vendere non di istruzione alla democrazia costruita sul sangue dei nativi americani e delle minoranze prendiamo la Marvel per quello che è un universo stratificato pieno di contraddizioni ma in fondo di una stabilità rassicurante anche quando vuole illudere di cambiare tutto nei sogni almeno un ancora un punto fermo serve sempre per questo difendetevi iscrivetevi al canale commentate lasciate like e noi civilmente ci becchiamo in un altro quando grazie a tutti